a jess tai voi che ci fate qui? dovevo incontrare jimmy un mio vecchio cliente la katrina voleva una rivincita una popa della lega 73 ha chiamato trappola navallo ci aspettavano fin dall'inizio possiamo barcarli di vida e tinta conoscete la stanza? agli ordini ricevuto ehi, ehi ma che diavolo? Mac, che succede? aspetta sì, sì, sto bene l'elicottero della polizia mi ha puntato il farlo io ho perso il controllo stai bene? sì, ho sfruttato un cavalcavia ci sono nascosto attenti ragazzi ovvio a col farlo sei finito cavolo jess scusa, sto bene ho superato una barricade aspetta l'elicottero è su di me e se la prende con la mia auto devo riuscire ad evitare quel farlo raggiungi la rotatoria vicino al cantiere vediamo l'arte dai, sbrigati l'elicottero ti disattiverà ah, forza, forza raggiungi il cantiere poi ci penso io quando vuoi eh, mech no, cospenza mech ehi, Koto guai tu mi permetto a muovermi mi allontano grazie, mech adam 6 seguiamo a 4-1 il soggetto si dirige a nord passando per 2-1 attenzione uno adam 6 all'inseguimento unità in ascolto rispondete mi è addosso qualcuno ha un piano c'è un cavalcavia alla fine del canale ci vediamo là ricevuto, Jess non posso continuare devo raggiungere Jess forza forza ci sei quasi libero Jess guardate come si fa ci vediamo 1 a 6 seguo un 4-67 1 a 6 seguo un codice 3 battuglie disponibili rispondete ora proviamo la terapia d'urto incredibile è l'elicottero anche se parecchio ammaccato non farlo a b lo so un bel colpo lo sistemerà dannazione hanno bloccato anche il lungo l'asco spero asseminare le neve almeno là l'elicottero non ti seguirà nessuno ci scommetterebbe e infatti non hai più cuse retta su quell'auto vai proprio la lotta ti tiene d'occhio se non segui quell'auto farei meglio a cambiare gittà inquilino cribbio ma questo qui è pazzo non me lo dire ti sto seguendo anche nei veicoli ma non mi aggancerà sono sulla bandway voi dove siete? mi dirigo a sud anche io nuovo piano vediamoci sulla 600V è in costruzione in piena di attrezzature scateniamo il caos e blocchiamo la via di fuori facciamo preparatevi metà della polizia di Silverrock mi sta all'elicottero e io porto l'altra a metà e io ho l'elicottero siete pronti? ecco come si fa un vero lavoro di squadra se perdiamo perderemo tutti insieme niente affatto ne usciremo ho agganciato il veicolo sospetto centrale avversa il sospetto no vai dall'altro lato oh mio vuoi un ciocco duro? ok ragazzi andiamo via di qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti